Ciao! In questo video vi voglio parlare dei prodotti della Nuance Biosystem che ho provato fino ad oggi. Ne ho provati 4, l'unica cosa che mi manca da provare sono le creme viso, che quelle ancora non ho avuto modo di provarli. La Nuance Biosystem è una marca da discount che si trova al Todis, non so se si trova anche in qualche Conad, perché il Todis è il discount della Conad, fa sempre parte del gruppo Conad. Non è una marca bio, ma ha degli ingredienti a un inci accettabile. Ho provato 4 cose e il primo prodotto del quale vi voglio parlare è una crema che non ho qui, perché l'ho finita ma ancora non l'ho ritrovata, e è la crema corpo, è composta da bioestratti di yogurt e olio di mandorle, se non sbaglio, comunque magari se ho detto una cavolata ve lo scrivo da qualche parte. Quella crema io l'ho trovata fantastica, innanzitutto per il prezzo, perché costa 2,99€, l'ho pagata per 400ml, ed è una crema abbastanza corposa, però allo stesso tempo è molto fluida. Si trova all'interno di una confezione comunque così, abbastanza rigida, ma una volta che esce il prodotto si trova a metà, non si fa per niente fatica a stringere la confezione per farla uscire tutta, quindi si riesce a prelevare fino alla fine. E' una crema molto idratante, per me che ho la pelle delle gambe molto secca, diciamo che è stata ottima, perché la mettevo la mattina dopo aver fatto la doccia, e mi lasciava la pelle idratata fino a sera, ci vuole magari qualche movimento in più per farla assorbire rispetto ad una crema normale, ad un'altra crema insomma, però l'idratazione che mi dà è veramente fantastica. E' corposa, ma non ha quella consistenza super densa, diciamo che ha più fluida rispetto alle creme corpose, non ha profumazione, perché ha una profumazione delicata, ma non si sente, non persiste, e l'ho ricercata, ma purtroppo qui da me al Tolis ancora non l'ho ritrovata, però sicuramente appena la trovo la vado a ricomprare. L'altro prodotto che ho provato è lo struccante occhi, questo qui, questo costa 2,49, e qui dice, rimuove perfettamente il trucco occhi, rispettando la pelle delicata del contorno occhi, la sua formula ricca di biostratti di bisco, ha specifica funzione antiossidante protettiva e biostratti di altea, dà le naturali proprietà idratanti e emolienti, aiuta a mantenere e ripristinare il livello di idratazione della cute. Io con questo mi trovo benissimo, ho preso un long lasting di Kiko, perché vi volevo far vedere che a me strucca anche questo qui, mi trovo bene perché mi rimuove tutto, il mascara io prima lo vado a sciogliere tra le dita, però mi porta via qualsiasi cosa, e a me non brucia. è uno dei pochi prodotti che se metto più prodotto nel dischetto, non mi dà fastidio agli occhi, perché con diversi struccanti mi è capitato che anche se di norma non mi bruciano, se metto più prodotto nel dischetto, quando lo vado a passare sull'occhio, mi dà fastidio. Invece con questo non mi capita, mi rimuove tutto e non mi lascia la palpebra, comunque la zona unta, perché molti struccanti mi lasciano proprio quella sensazione di unto sulla palpebra, questo non lo fa. Adesso ho preso un dischetto e vi faccio vedere. Questo è il matitone della Kiko, che per me non va via manco con le cannonate, cioè nel senso è un prodotto che si fissa veramente bene e come vedete è andato via praticamente quasi del tutto. Ora io non è che sto... Eccolo qui. L'ho rimosso praticamente tutto, cosa che non mi capita con molti struccanti, perché questi matitoni della Kiko, almeno questi della collezione da Ring Game, si fissano perfettamente. non tutti gli struccanti me li riescono a rimuovere, quindi è un prodotto ottimo per me. L'altro è il latte detergente, questo qui. Questo l'ho pagato sempre 2,49 euro e qui parla... Il latte detergente delicato propone una formula naturale su base biologica, deterge il viso rimuovendo delicatamente le impurità senza seccare la pelle. Io vi faccio vedere lì in cima, non so se si riesce a leggere qualcosa. Comunque è questo qui. E mi piace e non mi piace, nel senso che io non amo molto le consistenze del latte detergente, preferisco più un'acqua micellare o un qualcosa di delicato sul viso. Non lo so, mi dà la sensazione... La maggior parte dei lati detergenti che ho provato mi danno quella sensazione di non far respirare la pelle ogni volta che appoggio comunque il dischetto sul viso. Questo rimuove tutto il trucco, lascia la pelle veramente morbida perché credo che abbia anche olio di mandorle dolci. Ah, l'olio di mandorla, sì. Eccolo, ha l'olio di mandorla. Però mi rimuove tutto, mi lascia la pelle morbida, ma io non amo questa sensazione sul viso. L'ho acquistato per, diciamo, provarlo perché comunque per 2,49 euro penso che sia un buon prodotto e non mi ricordo, ma ecco, sono 200 ml a 12 mesi di pau. Mi sa che dello struccante occhi non ve l'ho detto, ma questi credo siano... Sì, 150 e sempre a 12 mesi di pau. Eccolo qui. L'ho preso per provarlo. È un buon prodotto, sicuramente. Per chi si trova bene con la consistenza del latte detergente, sicuramente è un prodotto valido. Va benissimo per rimuovere il trucco e anche il fatto che lascia comunque la pelle morbida. però per me, a me non piace questa consistenza perché mi sembra che la pelle non respiri quando vado a passare il dischetto. Non lo so, io non amo le consistenze molto pesanti sul viso. Però come struccante, come latte detergente in sé, cioè per la funzione principale che deve avere, è ottimo. Poi dipende molto da che tipo di prodotto vi piace, insomma. A me non piace questo tipo di consistenza, ma come struccante va benissimo. L'ultimo prodotto è uno scrub ed è lo scrub viso. Esfolia e rinnova con bioestratto di salice e bioestratto di visco. È questo qui. Questi sono 150 ml a 12 mesi di PAO. L'avevo presi praticamente con un'offerta che di questi tre prodotti uno non ne avevo pagato perché erano tutti e tre a 2,49. Qui parla... Qui no, qui non parla. Qui c'è scritto, casomai. La sua formula a base di ingredienti naturali come le bioproteine dello yogurt e il bioestratto di visco rinfresca a lungo donando per tutta la giornata una sensazione di pelle appena lavata. Il bioestratto di salice favorisce l'eliminazione delle cellule morte rendendo la pelle morbida e setosa al tatto. Ora... Io amo gli scrub quelli belli potenti belli consistenti dove i granuli si sentono perché mi piace la sensazione che mi lasciano poi sul viso di pelle pulita quasi di pelle nuova tra virgolette però mi piace quella sensazione. Questo è troppo potente perché io l'ho utilizzato due volte sul viso e assolutamente non fa proprio per me. Ora, spero di riuscire a farvi vedere i granuli e non so se si riesce a vedere qualcosa no, ha dei granuli comunque sia molto piccoli per esempio come se vi fate uno scrub fatto in casa con lo zucchero ha dei granuli molto piccoli ma anche dei granuli così grandi e nonostante io sia abituata ad utilizzare comunque scrub forti a volte mi è capitato anche di utilizzare scrub per il corpo sul viso perché non ho particolari problemi insomma, la mia pelle reagisce abbastanza bene questo rinnova la pelle certo perché te la porta via praticamente io l'ho utilizzato due volte sul viso la prima volta appena ho iniziato a massaggiare avevo proprio la sensazione come se mi strappasse la pelle era solo una sensazione perché era troppo aggressivo infatti l'ho steso sono andata a rimuoverlo e avevo tutto il viso completamente arrossato e quasi mi bruciava praticamente poi la seconda volta dopo l'ho utilizzato diciamo dopo dieci giorni non dopo una settimana come faccio di solito e la sensazione è stata sempre la stessa cioè questo mi dà la sensazione che mi porta via la pelle è una cosa bruttissima perché non riesco ad usarlo proprio sul viso in quanto mi lascia veramente ma principalmente qui mi lascia proprio questa parte completamente viola rossa che fa proprio male perché sembra proprio irritata la zona è uguale la fronte e me la lascia completamente rossa lo sto usando per il corpo per il corpo non è male perché comunque avendo io la pelle sul corpo più secca diciamo che come scrub mi va abbastanza bene per il corpo ecco ci sono rimasta un po' così perché sono abituata già l'ho detto ma io sono abituata comunque agli scrub forti ma questo è veramente eccessivo per il viso perché per quanto penso si possano utilizzare degli scrub un po' più aggressivi diciamo la pelle del viso almeno del mio viso è molto più delicata rispetto alla pelle del corpo quindi assolutamente per me questo non va bene infatti quando avevo fatto il video degli acquisti anche Roberta Life in Colors me l'aveva scritto sotto e ti devo dire Roberta avevi pienamente ragione io questo assolutamente sul viso non lo riesco ad utilizzare e niente ragazze questo era tutto fatemi sapere se voi li avete provati scusate ma mi pizzica il naso e ci vediamo al prossimo video ciao